Ma fai una croce! In scena il classico varietà adatto a grandi e bambini con scene esilaranti, sketch comici curati da Alberto Catalanotti e canzoni riadattate. Riferimenti storici al vecchio teatro Garibaldi e al cinema trapanese, temi delicate ed importanti che riguardano i cittadini come l'acqua pubblica, la pista ciclabile, i posti riservati ai disabili ma anche le unioni civili e la legge Cirinna. Sul palco la grande performance di Vanessa Galipoli, artista completa e dinamica, capace di tenere il palco con grazia e bravura. Oltre a lei Nicoletta Giurlanda, Pietro Bruno e Carlo Sanmartano. Il merito di questo spettacolo? Aver saputo affrontare le dinamiche sociali con l'apparente leggerezza adatta a tutti, aver riportato sul palco il varietà con la V maiuscola che ha risposto alle esigenze di un pubblico attento che è stato ben felice di trascorrere una serata in allegria ed è stato messo nelle condizioni di riflettere ma col sorriso. Buonanotte!